Salve Okutama, oggi si corre Kristen, hai qualcosa da dirci? Beh Alex, siamo di nuovo qui come alcuni dei piloti laggiù, ho visto qualcuno sentare tempi pazzeschi, quindi mi aspetto per stazioni ad alto livello Ok, io l'ho appena detto che ho trovato, non vi avrà inizio Ok, preparati per una lunga gara 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.